Buon pomeriggio, benvenuti a questo terzo incontro del seminario di riformismo maneggeriale necessario, lo scelto di insieme e spunti di riflessione. Buonasera Giuseppe. Buonasera Fulvio e buonasera... Allora, una breve presentazione per chi si è collegato per la prima volta. Mi chiamo Fulvio Palmieri, sono l'ideatore del sito risorse umane hr.it, portale dedicato al mondo HR che pubblica articoli e suggerimenti sul tema della gestione delle risorse umane e del mondo del lavoro. Il relatore di questa serie di incontri è Giuseppe De Petra, docente libero professionista nell'ambito della formazione e della consulenza maneggeriale per lo sviluppo organizzativo delle risorse umane e della leadership. Nel 2006 è stato coautore della pubblicazione Il successo nell'e-learning attraverso la valutazione, nel 2018 ha pubblicato Digressioni e nel 2020 I tre apprendimenti circolari per il management 5.0, edito da Morlacchi Editore ed inserito nella collana Sociologicamente. Ha inoltre pubblicato diversi articoli sul tema del management e della leadership per il blog di risorse umane hr.it. Bene, in questa serie di incontri vengono affrontati temi sulla managerialità e della leadership più adeguati ai nuovi tempi, alle difficoltà e alle novità che dovremo saper governare. Prima di cedere la parola a Giuseppe De Petra ricordo che al termine dei quattro seminari verrà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che ce ne faranno richiesta con un'e-mail indirizzata a mail-resource-umane-hr.it indicando nome e cognome e le quattro parole chiave che vengono suggerite nel corso degli incontri. Ricordo che il prossimo seminario si terrà lunedì 11 aprile, sempre le 17.10, salvo imprevisti. Era dovuta. E' sempre dietro l'angolo l'imprevisto. Comunque non dovrebbero esserci. Noi abbiamo in realtà anticipato l'ultimo seminario, quello di lunedì, che in tempo era calendarizzato a martedì. Quindi, se vi va, segnatevi l'ultimo incontro, che è quello di lunedì 11 aprile, giusto Fulvio? Sì. 11 aprile, sempre alle 17.10. Così chiudiamo questo ciclo breve, o relativamente breve, insomma, a seconda della prospettiva di questo tema sul riformismo manageriale, che insomma è un tema estremamente ampio. Insomma, che dire Fulvio? Questa sera noi parliamo di change management, insomma, prima voglio ringraziare, scusate, parliamo di engagement organizzativo. In realtà è un lapsus freudiano questo, perché l'engagement, come ho anticipato, è strettamente connesso e collegato al tema del change management. O per dirla diversamente, quando parliamo di engagement, parliamo anche di change management, ok? Ecco spiegato il mio lapsus. Ma detto questo, insomma, voglio ringraziarti ancora una volta, perché grazie a te, al tuo spazio, che mi rendi, come dire, possibile questo, come dire, questi appuntamenti divulgativi, chiamiamoli così. Che penso possano interessare anche a tante persone. Insomma, l'obiettivo è proprio quello, l'obiettivo, come ho sempre detto, che ripeto anche questa sera, non è tanto impartire delle lezioni, quanto lasciare sul tavolo degli spunti di riflessione, a chi poi fondamentalmente, ai manager, quindi ai titolari d'azienda, ma agli stessi HR manager, ma anche agli stessi studenti, so che seguono tantissimo gli studenti e che, come dire, si avviano, si apprestano alla trattazione di queste tematiche, che sono temi, come vi dicevo, sono temi estremamente vasti, estremamente complessi, come questo di questa sera, proprio dell'engagement. Soprattutto l'engagement ha dei confini molto estesi, anzi potrei dire quasi che non ne abbia profondo di confini. In effetti è difficile delimitare che cosa sia esattamente l'engagement organizzativo nelle ristrettezze delle specificità disciplinari legati al mondo HR e alla formazione manageriale. Le scaturigini e le implicazioni organizzative dell'engagement sono davvero tante, sono innumerevoli, sono domini così disparati, così eterogenei, che se volessimo Fulvio potremmo anche selezionarli uno ad uno, ad hoc, ed esaminarli, vagliarli, sviscerarli e farne proprio dei singoli ambiti tematici, dei monoliti quasi tematici per dei seminari o per una formazione futura. Ecco, non lo escludo questo Fulvio, non lo escludiamo, ma insomma ribadisco veramente il campo vasto dove si gioca il tema dell'engagement. Questa eterogeneità però non ci priva della contiguità. Cosa significa? In senso stretto, quando parliamo ad esempio di delega organizzativa, l'affronteremo tra poco, ci riferiamo chiaramente all'ambito più esteso della fiducia. Ecco, questi sono due ambiti continui. O in senso, o in lato senso, no? L'engagement organizzativo, come avevo già avuto modo di, poc'anzi di dirvi, è radicalmente correlato, innestato appunto al change management. O come vedremo nell'ultimo incontro di un uomo prossimo a quello della leadership. Vedete quindi che tutto ciò ci riporta ancora una volta a quel principio disciplinare o metodologico della circolarità dei saperi manageriali che vi presentavo nel primo incontro di questo ciclo e che proprio come in un circolo virtuoso, lo ripeto ancora una volta, questi saperi si avviano, si chiusono e si riavviano idealmente. Esattamente questo. Questa è la slide che feci vedere durante il primo seminario, ma che poi in realtà è una slide che sintetizza tutto questo incedere, tutta questa comunicazione e la portata di questi tre apprendimenti. Dunque, l'engagement organizzativo fa parte di quel secondo apprendimento che avete appena visto nella slide, secondo la mia prospettiva chiaramente, è che si caratterizza di elementi, di modalità, di approcci e anche di strumenti, soprattutto di strumenti di cui parleremo. Ora, quando parliamo di engagement organizzativo, cosa dobbiamo e vogliamo esattamente intendere? Che cos'è l'engagement organizzativo? Dunque, per rispondere a quest'altra domanda fondamentale, a quest'altra domanda essenziale, io non posso che partire dal significato letterare della parola, la parola inglese, che significa coinvolgimento, impegno, ingaggio. Talvolta lo indicano anche come fidanzamento. Il verbo to engage vuol dire impegnare, ingaggiare, occupare. Nell'accezione manageriale, l'engagement vuol dire sostanzialmente coinvolgimento, coinvolge. Anche il coinvolgimento è un'altra parola, ahimè, vittima dell'utilizzo brutale, sfrenato e talvolta decontestualizzato che se ne è fatto negli anni, di cui si è abusato non poco nel corso degli anni, ma che ha implicazioni anch'esso sostanziali per la tenuta organizzativa, per il business dell'impresa, per il benessere organizzativo, quindi per la motivazione intrinseca. Non è la parola chiave di questa sera, ma è un argomento fondamentale di questa sera, la motivazione intrinseca. Di chiunque partecipi e contribuisca a vario titolo, alla vita organizzativa e ai risultati aziendali. Engagement quindi come un fattore cruciale dell'impresa. Come il change management e come vedremo per l'esercizio corretto della leadership, l'engagement gioca un ruolo fondamentale. Questo perché un'impresa che fa engagement, cioè che coinvolge le persone, coinvolge le risorse umane, è sostanzialmente un'impresa più redditiva. È un'impresa che detiene in qualche modo un vantaggio competitivo senza uguali. Qual è questo vantaggio competitivo? Diciamo che il risultato economico è l'effetto di questo vantaggio, che è appunto la motivazione. La motivazione profonda, quella che dà significato, la motivazione primaria, non appresa, non eterodiretta, ma originaria, che si origina da sé e che si origina in sé e che quindi riveste la funzione di rimente, di immovente. Senza la motivazione, senza una profonda motivazione in ciò che si fa, quasi in un'accezione calvinista, senza questa motivazione non c'è qualità nel lavoro, non c'è qualità del lavoro e non c'è qualità dei prodotti, non c'è qualità dei servizi erogati. Ecco, tutto ciò a detrimento non solo del business, ma proprio dell'identità e del benessere organizzativo e lavorativo di chi lavoro. Ecco allora che a questa costruzione di senso, io ripropongo ancora questo tema perché per me è un tema, è il tema, questa costruzione di senso, di motivazione, di coinvolgimento a tutto ciò partecipano due figure dentro le aziende, perché noi parliamo di aziende, la persona che lavora e il manager che in qualche modo se ne fa garanti di questo lavoro. Ora noi ci concentriamo, ci concentreremo sul ruolo che ha, che avrebbe o che dovrebbe avere il manager o il management se preferito, nell'adozione dell'engagement organizzativo affinché maturi e predisponga quella motivazione e quindi quel benessere, che qui io lo intendo in un'accezione più estesa, non solo quello dato dalle opportunità del work life balance per intenderci o altre soluzioni di questo tipo, che comunque sono validissime e che comunque andrebbero sempre in qualche modo adottate e prese in considerazione. L'engagement rientra in quell'immagine che ho definita teatro della realtà, l'ho definita così nel titolo di questo seminario, perché l'azienda, dico un'ovvietà, ma nonostante questo la dico, cioè l'azienda non è una rappresentazione nella quale vi è solo l'allestimento scenografico, quindi nella quale vi è solo un allestimento scenico scenografico di un'organizzazione, ma l'azienda come abbiamo più volte ripetuto è il luogo dove una persona passa la maggior parte della propria vita, dove in essa lavora, dove in essa vive il lavoro e quindi non in una funzione scenica, ma proprio nella realtà dei fatti. Ecco perché l'engagement come il change management e come la leadership sono faccende così importanti, così fondamentali, così vitali in qualche modo per le nostre aziende. Questo teatro della realtà il più delle volte viene contrapposto ad una sorta di teatro dell'assurdo, il teatro dell'assurdo organizzativo, quello che ho menzionato per esempio il mercoledì scorso, quello dei criticismi a tutti i costi, della ricerca dell'alibi, della cultura dell'alibi, della ricerca indefessa della propria versione dei fatti, stendiamo un vero pietoso in questi giorni su questa faccenda qua, del proprio chiamarsi fuori dalle responsabilità, del non riconoscimento dell'errore e al contempo nella paura irrefrenabile dell'errore, quindi del giudizio negativo. Ecco tutto questo ci cala dentro una sorta di teatro dell'assurdo che l'engagement organizzativo può riconvertire in un teatro della realtà, ma per fare questo bisogna o bisognerebbe di spiegare una certa vis manageriale. Per coltivare engagement in aziende è tutt'altro che semplice, perché si scontra con l'ostacolo forse più ingombrante, anche questo l'ho ripetuto più volte, cioè la cultura organizzativa o l'incultura organizzativa, che non ha mai saputo o voluto coinvolgere davvero le persone e partecipare quindi a quella costruzione di senso e di motivazione per il lavoro e del lavoro. È molto più semplice paradossalmente fare disengagement, o per dirla diversamente è più frequente imbattersi nel disengagement, laddove sia presente questa incultura manageriale di fondo che produce appunto disingaggio motivazionale, cioè malcontento e demotivazione. Poi si declinano in mille modi, si esprimono, si esplicitano in mille modi. Allora faccio, condivido con voi le ragioni del disengagement, che come dicevo possono essere davvero tante, ma io ne ho immaginate alcune che si dispiegano negli approcci relazionali fondamentalmente scorretti. Qui non mi posso dilungare perché apriremo non una parentesi ma un versante. Un'altra ragione del disengagement è legata all'utilizzo di schemi vetusti, a categorizzazioni, a cliché, anche su questo mi fermo qua. Quindi ai soliti pregiudizi, alle solite etichette, alle solite stereotipie, alla incapacità di comunicare. Ecco, la comunicazione è una corrente continua dell'engagement. Chi comunica efficacemente, chi sa comunicare bene in azienda, fa già metà del lavoro del coinvolgimento dell'engagement. Nella incapacità o nella sciatteria nel presidiare le dinamiche relazionali che sono, secondo me, e rimangono pur sempre la parte o una delle parti più complesse nella vita organizzativa. Questo vale chiaramente per tutti. Nella scarsa qualità della comunicazione e delle informazioni. Quindi si bandi, non ho detto quantità, ho detto proprio qualità. Sarebbe preferibile in certe situazioni comunicare, informare di meno, ma comunicare di più. Informare di meno, ma comunicare meglio. O informare meglio tu curo. Un'altra ragione di disengagement è legato ai rapporti di natura solo ed esclusivamente gerarchica nelle aziende molto strutturate. Questo è un fenomeno ricorrente, ricorsivo. Oppure nella mancanza di attendibili politiche meritocratiche, veridiche, effettive, non solo proclamate o preannunciate senza nessun seguito. Anche la meritocrazia. Quante volte ci siamo riempiti a bocca di meritocrazia. E quante volte l'abbiamo visto, o quantomeno, quante volte io l'ho vista praticata veramente raramente la meritocrazia. Alle aggressività di vario genere. Le aggressività di vario genere, soprattutto sul piano degli approcci, di atteggiamento e della comunicazione, rientrano nelle ragioni del disengagement. Oppure alla tendenza, no? Molto frequente, alla colpevolizzazione, alla cosiddetta caccia alle streghe, no? O all'incapacità o alla non volontà di ascoltare. Io ho sempre sostenuto, ma non solo io, insomma, che chi sa davvero comunicare in realtà non è colui o colei che sa parlare, ma è colui o colei che sa ascoltare. Questo, come dire, è il grimaldello della comunicazione efficace. Non è trovare la parola giusta, o meglio, tutto ciò arriva dopo. Nietzsche diceva, se si tace per un anno si disimpara a chiacchierare e si impara a parlare, cioè a dialogare. Questa è una frase, come dire, un'uscita nicciana che mi è sempre rimasta ferma come immagine ed è drammaticamente vera, no? Nella sua semplicità. un'altra ragione del disengagement è la diffusa mancanza di fiducia, o la tragica incapacità di delegare. Tragica perché non si delega, si parla di delega, ma non si delega. Quindi alla mancanza di deleghe reali, alla fiducia della delega, vorrò poi dedicare qualche altra riflessione in seguito, perché anch'essi sono temi portanti. Un altro motivo di disengagement è l'incapacità di chiedere, ma tu che cosa ne pensi? Vedete anche questo, è semplice, è banale, riconoscimento, motivazione, coinvolgimento, ma che più delle volte viene trascurato. Ho ancora l'incapacità di chiedere semplicemente scusa di fronte ad un errore, ad un abbaglio, ad un'incomprensione, a qualsiasi criticità o problema. Per non parlare dei rimproveri o delle critiche maldestre. Maldestre quando vanno bene, ma aggressive quando vanno male. oppure ad un'esclusiva pressione per i risultati. Mi fermo qua. Insomma, queste sono alcune, solo alcune, ahimè, purtroppo, delle ragioni che producono incultura del coinvolgimento e quindi disengagement, disingaggio motivazionale. L'elenco potrebbe essere molto più esteso. Quindi l'engagement significa anche e soprattutto portare avanti strategie politiche non più avulse dalle risorse umane, dalle persone. Significa fare scelte manageriali che non prescindano più proprio dalle persone, ma che in qualche modo appunto le coinvolgano e le vedano protagonisti. Qualche illuminato consulente qualche anno fa parlava proprio di protagonismo progettuale, che devono avere, che dovrebbero avere le persone. E ancora una volta qui mi leggo ancora al change management. Fare engagement significa non calare più sulle teste delle persone decisioni talvolta del tutto inaspettate ed imprevedibili e che impattano quasi sempre negativamente sulla loro qualità di vita lavorativa e inficiano sugli stessi risultati del business aziendali. Ecco, questo significa fare engagement. Il lavoro in generale, e nel nostro caso l'azienda, è il teatro della realtà perché è la nostra esperienza lavorativa vissuta. L'erlebness, per dirla alla Husser, è la coscienza del nostro lavoro, del proprio lavoro, del proprio ruolo, della propria identità lavorativa. È l'esserci. Con tutto il nostro portato individuale, personale, storico, curricolare, il nostro vissuto. Il management però partecipa di questo nostro vissuto, di questa nostra esperienza. Quindi di questo nostro essere professionisti. Perché oggi il professionismo è un concetto più esteso. Non sono più io, tu, Fuglio, chi altro. Il professionista è chiunque si occupi di qualcosa. O meglio, chiunque si occupi di qualcosa lo deve fare o se ne deve occupare in maniera professionistica, quindi professionale, con competenze, con studio, con l'analisi, con la dedizione, eccetera. Quindi questa partecipazione, questa co-costruzione di senso, di responsabilità e di motivazione da parte del management, richiede per il management delle grandi competenze, delle grandi prospettive, grandi visioni. Richiede una cultura organizzativa che sappia guardare più in là del proprio naso. E richiede certo anche una sorta di etica manageriale, cioè relativa proprio ad un comportamento, ad una condotta che si richiama, o che mi piacerebbe si richiamasse, proprio al coinvolgimento, ad una sorta di etica del fine e di un'etica del movente, mutuando questa distinzione dalla filosofia. Ecco, questa etica manageriale, o se preferite questa deontologia manageriale, è il principio, a mio giudizio, fondamentale perché si alimenta e si propaghi in azienda l'engagement. Io ho utilizzato e solitamente utilizzo l'immagine, nell'audio informazione, l'immagine dell'iceberg organizzativo per definire i costituenti dell'engagement, cioè quelle precondizioni perché si possa fare davvero coinvolgimenti in azienda. L'iceberg è un'immagine che forse avrete già incontrato, incrociato nelle vostre letture, nei vostri studi, eccetera. Ma l'immagine dell'iceberg rimanda proprio a questo blocco compatto, la cui superficie visibile e affiorante è in realtà la parte meno preponderante dell'intera complessione aziendale. In superficie avremo quelli che io chiamo gli asset tangibili di un'azienda. Cosa vuol dire? Cioè sono gli organigrammi, le norme, i ruoli, le mansioni, le procedure interne. Mentre in profondità troveremo invece la parte più imponente ma più nascosta alla nostra vista, proprio perché è più profonda, più radicata nella cultura organizzativa. Qui ci sono invece gli asset, io li chiamo gli asset intangibili, poi ognuno di noi, ognuno di voi può dargli la definizione che meglio ritiene giusta e opportuna. Cioè sono quegli asset strategici che riguardano appunto la comunicazione, la leadership, la responsabilità e la responsabilizzazione diffusa, che è la sorella maggiore della cosiddetta maturità professionale richiesta ad ognuno di noi quando lavoriamo. Un altro asset intangibile è la motivazione, la fiducia appunto. Cioè i rapporti fiduciari, l'adattamento, l'identità professionale, l'orientamento al risultato, l'orientamento al cliente. Sempre, quasi sempre solo pronunciato, ma mai davvero tradotto nella pratica. Cos'è l'orientamento al risultato che cosa è l'orientamento al cliente. Ne ho parlato comunque durante il nostro primo incontro. La competition è un altro elemento, la competitività è un altro elemento tipico degli asset intangibili. Vediamo adesso quali sono o quali potrebbero essere gli strumenti operativi per fare engagement. Cioè per motivare le persone, per coinvolgere le persone. Ecco, immaginiamo di calarci idealmente ora in una realtà aziendale, cerchiamo di fare chiarezza su quell'insieme di dispositivi che introducono l'engagement, che lo misurano, lo traducono nella quotidianità del lavoro. Allora, vi dico già sin d'ora che gli strumenti dell'engagement sono tanti, sono disparati, potrei dire quasi infiniti nella loro numerabilità se solo venissero davvero ponderati e utilizzati. Ma io voglio qui riferire ad alcuni strumenti che utilizziamo tutti o che dovremmo utilizzare tutti e che tutti abbiamo in realtà a portata di mano dentro le aziende. Ma che per una ragione o per un'altra, per un verso o per un altro, o non si usano, o si usano maldestramenti, o non si usano affatto. Però prima volevo, mi devo porre due domande prodromiche, propedeutiche. La prima è questa, esistono questi strumenti? Ho già risposto a questa domanda, certo che sì. E se sì, quali sono questi strumenti? Allora, quindi rispondiamo affermativamente alla prima domanda. Certo che esistono gli strumenti, ci sono, ci sono delle dotazioni manageriali sulle quali dibattiamo da molti anni, ma che tuttavia, come gli ho poc'anzi detto, non ancora attecchiscono nelle pratiche, nelle politiche dell'HR management, per esempio. Se non in alcune realtà organizzative per lo più grandi, per lo più strutturate, dove tra l'altro è presente, o quasi sempre presente, la funzione dell'HR management. Ma non è questo il punto. La seconda domanda rispondo elencando in estrema sintesi appunto questi strumenti. Io ne ho definiti, ne ho analizzati cinque. Il primo di questi è la delega. Ora, la delega non è solo semplicemente far fare qualcosa a qualcuno, ma richiama un patto, richiama il fedus tra il management e la risorsa e la persona. L'accordo, il negoziato, ma richiama anche l'intelligenza emotiva. Ne abbiamo parlato stamattina a Fulvio, no? L'intelligenza emotiva. Un altro tema su cui non si è scritto tanto, si è scritto troppo. Questa intelligenza emotiva che non ha teorizzato Goleman. Però Goleman l'ha portata in una declinazione manageriale organizzativa. E ancora oggi se ne parla di questa intelligenza emotiva, sebbene sia una faccenda, una questione che risale al 1995. Quindi non è dell'altro ieri. Però, nonostante questa, come dire, questa anzianità del tema, l'intelligenza emotiva rimane sempre verde nelle trattazioni, anche dell'engagement organizzativo. Quindi l'intelligenza emotiva è richiesta da chi? A entrambe le parti, no? Alle persone che lavorano e al management, e al manager. Un accordo, un negoziato. Quindi la delega, come dire, racchiude anche il concetto di competenza, di responsabilità, di quella responsabilizzazione che vi dicevo prima. Ora, noi abbiamo tre tipologie di delega, quantomeno. Io ne ho individuate tre, che si posizionano su tre livelli. In estrema sintesi, il primo livello è quello che io definisco della delega operativa, cioè la più diffusa, no? Quella, la più diffusa soprattutto nei team di media composizione. E la delega ha delle attività più rutinarie. Ed è molto utile, per esempio, per alleggerire il carico di lavoro di un responsabile ognuno di una persona. Si può utilizzare in svariate situazioni di lavoro e può costituire un primo banco di prova, è un primo utile strumento di engagement organizzativo. Però, c'è un però, non si confonda mai la delega operativa, quindi il primo livello di delega operativa, con quello che i francesi, i latini chiamano lo sbolognamento, lo sbolognare le faccende, lo sbolognare il lavoro. Non è così. Ogni presa in carico di delega deve essere una presa in carico razionale e deve essere un chiamare la risorsa razionalmente a prendersi in carico una certa operatività, qualsiasi essa stile. Ad un secondo livello c'è la delega organizzativa, quindi più strutturata. È una delega che implica una gestione di un team più allargata in termini di attività, di definizione, assegnazione di ruoli, di mansioni, di definizione e obiettivi. Ecco, in questa delega organizzativa il delegato assume qui la funzione proprio di cerniera, che si esplicita grossomodo nella funzione del middle management dentro le aziende. Abbiamo un terzo e ultimo livello, dove troviamo la cosiddetta delega finanziaria, che è sicuramente quella più complessa, quella più ampia, nella quale si sommano l'operatività, la managerialità, gli obiettivi, le strategie, insieme all'amministrazione di veri e propri budget finanziari. Altre due parole sulla delega. La difficoltà della delega sta anche e soprattutto nel capire. Ecco, io lo dico non perché queste criticità siano presenti nella letteratura manageriale, ma lo dico perché le vedo quotidianamente nel mio lavoro. La difficoltà sta nel capire che cosa bisogna delegare. Si delega, secondo me, ciò che è importante, ciò che è motivante o ciò che dovrebbe essere sfidante, anche minimamente sfidante. Ecco perché la delega, anche la delega operativa, è il primo strumento dell'enghiede. E presuppone, a qualsiasi livello, la delega presuppone sempre la fiducia, la fiducia. O meglio, dovrebbe presupporre sempre la fiducia. Che si badi, secondo me la fiducia la si dovrebbe dare a monte, quando invece si dà sempre solo a valle. Si dovrebbe dare a monte del processo. Dalla valle, sì, è molto più semplice, molto più comodo per certi versi. Ma la vera fiducia andrebbe data sempre all'inizio, a monte. Il secondo problema è chi delegare, chi dobbiamo delegare. Dipendentemente dai livelli delle delega, io vi risponderei, deleghiamo chi è pronto a ricevere una delega, ma anche chi necessita di acquisire più sicurezza e più fiducia in se stessi. Ecco, vedete l'enghiede. O anche chi deve essere messo alla prova, o chi, o chi, come dire, o quella persona sulla quale si vuole scommettere. Ecco, queste sono tutte le figure alla quale poter delegare qualcosa. Quindi la delega non ha soltanto una funzione, non è soltanto funzionale al lavoro, ma ha un significato recondito, ha un significato molto più profondo che riveste la funzione motivazionale delle persone. L'altro problema è come delegare. Questo è veramente un altro problema, perché la delega quasi mai rientra all'interno di una prassi manageriale definita, no? Precostituita. Cioè, con quale prassi, appunto, io devo investire di responsabilità qualcuno? Quindi, con quale prassi manageriali io posso delegare una risorsa? Ecco, spesso, erroneamente, no? Cosa si fa? Si invia una mail, si fa una telefonata, si fa un incontro di 5 minuti. In realtà, qualsiasi sia il livello di delega, serve sempre un'informazione chiara, no? Veicolata attraverso momenti strutturati, dei quali si chiariscono il perché, i come, gli obiettivi, gli steps, no? I risultati attesi, ma anche le criticità che si potrebbero presentare durante, no? Il processo di delega. Quindi, nella delega è implicito lo strumento negoziale, del patto, appunto, dell'accordo strategico tra le parti. Il secondo strumento dell'engagement organizzativo è, udite udite, è la riunione. Chi l'avrebbe mai detto? Io sono sempre stato uno stremo sostenitore e fautore delle riunioni di team. Quando chiaramente gestite efficacemente, quando vi è chiarezza, quando vi è sintesi, quando vi è una reale condivisione. Vi siete mai chiesti perché le riunioni falliscano? Perché nessuno, o perché nessuno voglia prendervi parte? Io me lo sono sempre chiesto e l'ho anche visto, perché succede questo. Beh, intanto perché non c'è mai una comunicazione chiara, né precedente alla riunione, né successivamente alla riunione. Il secondo luogo perché il più delle volte le riunioni sono dispersive, quindi c'è un moderatore impreparato a tenere questa riunione. Perché le riunioni diventano derogabili, quando invece dovrebbero essere inderogabili. Quando non si innesta l'abitudine, la procedura interna della riunione, ecco che diventano dispersive e quindi le persone non colgono l'importanza del riunirsi. Sono inefficaci quando non sono periodiche, quando non sono cicliche, cioè non sono stabilite a monte e calendarizzate a monte. Quindi vedete come parlare di engagement, oggi veramente ci catapultiamo nella realtà di tutti i giorni, nella quotidianità del lavoro. Oppure sono inefficaci le riunioni quando non hanno obiettivi chiari, definiti o predefiniti. Faccio poi notare, e questo l'ho anche scritto, che le riunioni quando sono efficaci sono o possono essere oltretutto anche delle sessioni di team building sempre a disposizione per il team e soprattutto a costo zero, se ci riflettete un attimo. Non so se sei d'accordo Fulvio, ma è sempre stato un mio profondo convincimento. La riunione in azienda è anche una sessione di team building. Un team che ciclicamente si incontra, si riunisce, si chiarisce, si confronta, si chiarisce e si riunisce sugli obiettivi o su ciò che c'è da fare. Un team di per sé vincente, consentitemi questo termine, perché proprio coglie la propria essenza, l'essenza del coinvolgimento, l'engagement appunto, lo scambio delle informazioni, ovvero le azioni vitali per ogni gruppo di lavoro. I gruppi di lavoro vivono e sopravvivono, vivono bene i gruppi quando tra di loro, dentro i gruppi si parla e si comunica, c'è scambio informativo. Terzo strumento, anche questo sempre più raro, sono quelli che io chiamo i colloqui individuali direzionali, i CID, cioè sono quegli incontri periodici strutturati nella relazione manager collaboratore, dove anche qua ciclicamente approfondire, capire, fare il punto, fare lo stato dell'arte di un lavoro, di un progetto o più in generale dell'andamento del lavoro, delle criticità, dei risultati ottenuti o non ottenuti, eccetera. Ecco, nel colloquio individuale direzionale, altro tipico esempio di strumento dell'engagement, il manager si prende cura di, dà voce, dà ascolto ai propri collaboratori, in momenti appunto definiti. Ma ahimè anche questi non si fanno, sono trascurati perché manca una cultura organizzativa in questo senso. I colloqui individuali rappresentano una, secondo me, una delle migliori sintesi dell'HR management, non solo chiaramente, ma una delle più importanti, ma anche dell'arte del dialogo e della comunicazione efficace in azienda. Sempre legata alla comunicazione, vedete che i temi sono i temi comunicativi, se parliamo di riunioni, dei colloqui, anche della stessa delega in qualche modo è veicolata dalla comunicazione. Un altro tema comunicativo e quindi dell'engagement è il feedback. Quanto abbiamo letto sui feedback, quante ore abbiamo letto sui feedback e quante ore io ho speso fiato per far sì che i manager imparassero davvero, davvero a dare dei feedback in azienda. Senza dilungarmi su questa questione che, ripeto, abbiamo già ampiamente dibattuto nella pubblicistica manageriale, io distinguo i feedback che io chiamo di propulsione, cioè quelli di natura motivazionale, del riconoscimento. Quali sono le occasioni migliori per questi feedback? Le riunioni, appunto, o gli stessi colloqui direzionali. Oppure ci sono i feedback di accomodamento, cioè quei messaggi, quei messaggi di ritorno, che hanno lo scopo di correggere o intervenire su un determinato comportamento agito sul lavoro, quindi in ambito per lo più disciplinare, ma più in generale relazionale. Ecco, questa tipologia di feedback andrebbe data sempre a caldo, quando invece o non si dà o si dà tre, quattro, cinque giorni, se non settimane dopo, laddove non ha più nessuna efficacia, nessun significato legato all'engagement e al coinvolgimento. L'ultimo strumento che voglio menzionarvi come strumento dell'engagement è la sintesi. Qualcuno mi dirà, ma come fa la sintesi ad essere uno strumento? La sintesi è uno strumento dell'engagement, perché produce engagement laddove e quando risponde alle esigenze concrete dell'operatività aziendale, ma che più delle volte, anche qua, si confonde troppo spesso con la superficialità o con l'informazione sommaria e frammentare. Anche comunicare per sintesi è una competenza, è un'arte, è una skill, come si dice oggi, una competenza trasversale legata alla comunicazione fondamentale per far sì che il flusso della comunicazione, delle informazioni dentro le aziende sia sempre continuo, oliato, ma tuttavia manca ancora e troppo frequentemente questo nelle aziende. O ci si perde nella frammentarietà o ci si dilungano inutili articolazioni e inutili verbosità. Mi fermo qua. concludo, chiudo e consentitemi questa conclusione che in parte richiama il tema dell'engagement e in parte esula e guarda da una prospettiva altra. È proprio un argomento che questa mattina abbiamo dibattuto insieme, Fulvio, dibattuto proprio con te. Sì, non entro mai in discussione perché sai che poi dove andiamo a parare, ecco. Non andiamo a parare da nessuna parte, è come dire, è una riflessione finale, conclusiva, nata proprio dalla chiacchierata di questa mattina. Quindi l'engagement non è un problema, per meglio dire, non lo diventerebbe se lo si applicasse o lo si traducesse con pieno convincimento, come dicevo la scorsa volta, con deliberata razionalità nelle pratiche manageriali o nelle politiche dell'HR manager. Il problema invece è un altro, ce ne sono tanti altri di problemi, ma in questo caso quello su cui voglio fare questa breve digressione sta più a monte, o se volete più in profondità, dipende dalla prospettiva da cui osserviamo il fenomeno. Ed è un problema che viviamo tutti, viviamo tutti sia come fruitori della comunicazione, dei contenuti, ma anche le aziende stesse. Tutti quindi ne siamo vittime, ma al contempo tutti ne siamo dei sostenitori, dei patrocinatori. Ed è proprio il problema dell'eccesso, dell'eccedenza, della sovrabbondanza contenutistica. Che vuol dire? A cosa mi riferisco? Mi riferisco appunto a questo eccesso di informazioni, di contenuti, in questo caso inerenti alla sfera delle risorse umane, del management, che ogni giorno abbiamo sempre a disposizione, come si dice con un semplice click, e che alcuni hanno giustamente definito e sintetizzato con il termine, forse un po' bruttarello, ma efficace, no? Di infodemia, o quantomeno che rientri in questa caratterizzazione. Ora, l'eccesso di queste informazioni, questi teoremi, di queste spesso pseudosoluzioni, come le chiamo io, alla page, no? Di più delle volte non sono che in realtà delle mere riproposizioni, no? Prive completamente o quasi di qualsiasi spunto o supplemento critico, veicolate così, senza soluzioni di continuità, in un eterno fluire, no? O stipate dentro questo frullatore, ormai sempre più sovraccarico e rigurgidante di informazioni, qual è il web, no? Il social, l'internet, eccetera. Ecco, questo scenario mi pone di fronte, ci pone di fronte, caro Fulvio, alla domanda, ma qual è oggi un contenuto di qualità, eh? Questa è un'altra domanda fondamentale. Che cosa vuol dire oggi contenuto di qualità? Eh, insomma, è molto difficile rispondere, o quantomeno rispondere così alla carta a questa domanda. Il problema è cornuto, no? È diabolico. Eh, questo eccesso di contenuti ci porta così dritti dritti ad un eccesso di possibilità di scelte, no? Eh, ad un mare magnum contenutistico dove troviamo la qualità nelle sue mille nuance stilistiche e, no, informative. Dove tutto è giustamente importante, eh, ma allo stesso tempo dove tutto è altrettanto giustamente, ma paradossalmente, eh, privo di importanza, dove tutto smarrisce la propria importanza. Questo è il paradosso, il vero, tragico, drammatico e travolta delirante paradosso dell'eccesso contenutistico. Prendiamo ad esempio le tematiche manageriali, no? Quali di queste tematiche, di questi ambiti che dibattiamo tutti i giorni, di questi aspetti non sono ancora stati trattati? Forse nessuno. Quali tra queste tematiche ancora si nascondono, si annidano per essere poi un giorno scoperte, eh, formulate text nuovo e innalzate, no? Al rango di tendenza o di tendenze, di nuova corrente di pensiero o di attualità contenutistica. Ecco, questo per me è un problema che, che, che investe anche il management, investe anche l'azienda. Eh, le molte questioni in ballo, le criticità, le criticità che oggi impattano sulle organizzazioni, che oggi vivono, eh, le aziende, le persone che ci lavorano, vengono solo trattati, eh, non sempre chiaramente, ma spesso come più contenuti da vetrina, eh, alla page appunto, non come delle faccende serie su cui intervenire, su cui intervenire con la formazione o con politiche dell'HR ben precise e soprattutto coraggiosi, eh, quindi per anni questa sovrabbondanza contenutistica, eh, l'engagement per anni è stata vittima, essa stessa, no? Per anni di questa sovrabbondanza contenutistica. Forse ancora oggi lo è. Eh, quando appunto si tratta invece di una faccenda terribilmente seria su cui investire tempo, analisi e non solo per trovare quegli slanci e quelle forze che, che portano, come dire, allo slogan o al contenuto privato, privato di senso. Quindi, allora, cosa dovremmo fare? Dovremmo fermarci un attimo, no? Fermarci a riflettere, a capire che cosa sia davvero importante. Fermarci a respirare, a ritrovare il tempo perduto, no? Per usare questa formula proustiana. La memoria dei nostri successi, ma anche dei nostri insuccessi, senza i quali, secondo me, non conosceremmo mai il valore di un successo, fortunati in questo gioco di parole. Siamo tutti stanchi delle formule retoriche, delle trovate, no? Delle trovate che intendono che hanno solo, come dire, l'afflato, no? Del consenso, no? Che hanno solo questo rantolo quasi del consenso. Non è di questo, secondo me, che hanno bisogno le aziende. Non è di questo che hanno bisogno le persone che lavorano e che devono risolvere problemi tutti i giorni dentro le aziende. Non è di questo che abbiamo bisogno noi, consulenti e formatori, né tantomeno è di questo che hanno bisogno di mangi. Chiudo. Quindi, torniamo in noi, respiriamo, rallentiamo se necessario, alziamo lo sguardo, riflettiamo, per quanto ci è possibile, e cerchiamo di razionalizzare, questioni legate al nostro mondo, chiaramente, ciò che ci circonda, e proviamo quindi a riposizionarci in una sfera, in una condizione non tanto umanistica, ma quanto umana, no? Che abbiamo smarrito. Tutto ciò, anche questo, rientra nell'engagement, perché l'engagement è anche, è soprattutto questo, è un trarsi fuori da questo frullatore impazzito, è un ripristinare, una condizione normale, normale, che ci riporti a fare le cose, qualsiasi cosa, senza per forza dover stupire ogni volta, per essere ogni volta dirompenti, eccetera. Questo è per me il problema oggi. Trarsi, o meglio, trovarsi sempre nelle condizioni di dover essere sempre al di sopra delle nostre aspettative e delle aspettative degli altri. Cioè, dobbiamo sempre stupire per fare qualcosa. Tutti i talenti. Quindi, l'engagement non è un tema dirompente, attenzione, non è un tema dirompente, ma è un tema fondamentale. È esso stesso un ritorno alla normalità, alla velocità normale delle cose, dei fenomeni e delle aspettative. È questo ritrovare il tempo perduto ed è un ritorno alla mediazione e alla comunicazione con e tra le persone. Grazie. E ce ne sarebbe tanto da dire, ma io mi taccio quando tu parli, perché poi sai come i discorsi che piega prendono, no? Si diramano in tutte le direzioni. Era, come dire, era un inciso finale, ma che secondo me è ben sosposa con la questione del coinvolgimento o ricoinvolgimento delle persone. Comunque, che dire, Furu, prima di lasciarti la parola, grazie davvero a tutti. Grazie a te. Anche a chi non c'è, per quanto mi riguarda, io vi ricordo l'ultimo incontro di lunedì prossimo, correggimi i Fulio se sbaglio, alle 17. L'11 aprile, non martedì, lunedì, parleremo di leadership, parleremo di leadership generativa o leadership di processo. Chiudiamo questo ciclo e chiudiamo questa trilogia della circolarità dei saperi manageriali. Grazie davvero a tutti. Ricordo solo la parola chiave di questa sera, perché vedo che ci sono ancora persone collegate, quindi è probabile che sono state rapite dal tuo discorso. e la parola chiave di questa sera è patto. Ricordatevelo che poi sarà utile per ricevere l'attestato di partecipazione a questi quattro incontri. Auguro tutti una buona serata. Mi associo, buona serata a tutti e ci vediamo lunedì. Buona serata a tutti. Ciao Fulio. Grazie, buona serata. Grazie a te e grazie a voi. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao.